Due certezze, Giuseppe Mourinho e Romelu Lukaku. Il primo che dopo delle critiche, no critiche, delle voci sull'esonero risponde facendo un lavoro enorme, vincendo 4 a 1 e azzittando tutti. Il secondo che continua inesorabilmente a suonare gli avversari, a maltrattarli facendo gol a raffica. Due trascinatori, uno come Giuseppe Mourinho e uno come Romelu Lukaku. Perché per Giuseppe Mourinho rispondere dopo le gravi accuse, le gravi accuse di alcuni giornali romani che lo vedevano a un passo dall'esonero, lui ha risposto con un 4 a 1, che è praticamente una partita stradominata, stragiocata bene. E una domanda. Ora, ora, lo cacciate Giuseppe, lo cacciate Mourinho, lo cacciate Mourinho, non mi sento, lo cacciate Mourinho out, non mi sento, non mi sento ancora. Per tutti i gufi, per tutti i gufi, per tutti i gufi, io rispondo come farebbe Lukaku. Testa bassa e pedalare, non si parla. Perché comunque la Roma si è iniziato male, si abbiamo fatto cagare le prime tre giornate. Si va bene tutto, però, però, non esageriamo troppo, perché la Roma comunque si trova a meno 3 dal Napoli, eh. Non è che si trova a meno 15 dalla Champions. Si trova a meno 3 dal Napoli, che è la sua avversaria per il quarto posto, ok? A meno 3 si trova, non si trova a meno 20, meno 3. Quindi vuol dire che se la Roma vince una partita e il Napoli la perde, stanno pari. Ecco il dramma della Roma universale che si può riparare con poco. Con poco, perché l'unica cosa che abbiamo imparato è che nel campionato basta vincere un paio di partite e ti riaggiusti praticamente tutto. E ora, per tutti quelli che dicevano Mourinho out, la Roma non ha gioco, la Roma non ha carattere, la Roma non sta con Mourinho. Anche lo stesso presidente Dan Ryan Frielkin, che secondo alcune fonti volevano cacciare Mourinho. Ora, vi dovete delle scuse perché comunque la terza vittoria consecutiva, non montiamoci la destra perché ancora non abbiamo fatto niente. Abbiamo vinto contro Frosinone, Servette, Cagliari, i Big Match, quelli dove veramente vedi se sei una grande squadra, devono ancora arrivare. Però sono comunque piccole risposte. Ora dovete stare tutti muti, senza offesa, per chi lo criticava. Parlare con educazione perché Mourinho è uno che ha fatto la storia e per chi lo criticava anche con insulti molto pesanti, Mourinho sta rispondendo sul campo. Tralasciando questo che era una piccola parentesi, vediamo un attimo la partita. Perché la Roma gioca, i primi 15 minuti, io già mi ero immaginato che magari la Roma, questa era la classica partita, che non la riuscivi a sbloccare. Il Cagliari magari lo faceva uno verso la fine del primo tempo e poi tu eri costretto ad incorrere il pareggio. E alla fine o finiva che perdevi clamorosamente o che pareggiavi. Perché la partita veramente era molto chiusa. Addirittura il Cagliari spiora il vantaggio con Rui Paetrisio che la prima parata dell'anno, signori, è stato a Rui Paetrisio perché ha fatto la prima grande parata dell'anno. Un colpo di testa comunque molto veloce, lui con dei buoni riflessi da portiere, anche se Giroud comunque lo vedo meglio in porta, riesce ad agguantare quel pallone. Per il resto il Cagliari poca poca roba, quella è l'unica occasione. La Roma trova il gol del vantaggio con Aguar che se sta bene, se sta bene, perché tanto ogni giocatore, Aguar, Di Bala, poi ne parleremo, Smalling, Llorente, il titolo è sempre se sta bene, è forte. E se sta bene Aguar fa la differenza, come l'ha fatta ieri, la può fare anche nei big match. Gli ha fatto un gol, mi ha fatto vincere la giornata del fantacalcio, quindi molto molto bene. Lukaku un minuto dopo, neanche un minuto dopo, la sblocca con il petto, signori, la pesa qua, la pesa qua, con il lupetto, con il lupetto di petto, in porta tutti i citti, partita chiusa. Là si è spenta la lampadina per il Cagliari che ha capito che comunque la partita era finita. Io rispetto tantissimo il Cagliari, è una squadra che sia storicamente, sia per l'allenatore, sia per i tifosi, sia per la terra, la Sardegna, mi sta molto simpatico il Cagliari. Però vi devo dire, tifosi del Cagliari, che la squadra c'è, perché comunque non è una brutta squadra, allora andrò nello specifico. Però, una svegliatina, nel senso, i giocatori li vedo molto mosci. Ora ne andrò a parlare più nel dettaglio, parliamo prima della Roma. Lukaku quindi che è fuori forma ragazzi, per tutti, qua ritorniamo ai gufi, ai rosigoni. Quindi, un mese fa, Lukaku fuori forma. Io credo che il 99% degli italiani medi vorrebbe essere fuori forma come Lukaku. E se fuori forma vuol dire questo, tutti noi credo vorremmo essere fuori forma come Lukaku. Invece, per chi dicesse che Lukaku ha la pancia, eccola lì, che l'ha messa dentro proprio con, non dico con la pancia, ma stiamo con quel petto da, 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 da bodyguard, no? Da bodyguard nelle, vabbè, avete capito, veramente una cosa incredibile Lukaku. Terzo gol, come arriva il terzo gol? Eh, Belotti, Belotti, giocatore spaziale, stiamo tornando a vedere il vecchio Gallo, Belotti. Il giocatore che ha migliorato del 300% la media realizzativa dell'anno scorso in Serie A, perché ricordiamo che Brocchi veniva da una doppietta contro il Servet, che comunque non fa mai male, e sta già a tre gol in Serie A, top 10 capocannonieri, credo, sì. Il Gallo ha bisogno di più spazio, e veramente ha fatto un gol incredibile, entra a voglia, sgomita, lotta, lotta per la squadra, per la maglia, per la storia di questa Roma, per gli obiettivi di questa squadra e di questo allenatore e di questa società. E' un giocatore strabiliante, che veramente mi ricorda quello, quello del Toro. Ma andiamo per gradi, perché sì, Belotti lo amo, perché ha fatto, veramente, sta facendo benissimo. Piccato, non mi farò, credo, la maglietta, perché questa mi farò la maglietta di Lukaku, ora la vado a personalizzare. Quella bianca di, quella nera di Spinazzola e quella bianca, credo, di Paredes. Ma Belotti, appunto, entra perché? Perché, appunto, Di Bala si infortunia. Di Bala, lo sappiamo, c'è una tassa, una tassa da pagare ogni mese, ogni mese e mezzo, se ti va bene due, che dice che Di Bala almeno due settimane deve stare fuori. Il ginocchio, il linguine, gli sfieramenti, i problemi muscolari, tutto. Lukaku là c'ha il ginocchio ammaledetto, il giocatore è fantastico, però, ahimè, si fa, si spacca sempre. E quindi si dice che contro l'Inter lo dovremmo avere a regime, cosa positiva, non me lo aspettavo. Potrebbe fare qualche minuto contro il Lecce, tra 20 giorni più o meno, poco più di 20 giorni, e tra un mese tornare a regime contro l'Inter. Questa è una cosa molto positiva, di fatti non va neanche con la nazionale. Però si spacca, un contrasto veramente brutto, brutto a vedere perché è andato veramente forte sul ginocchio. Altra cosa, piccola parentesi, non mi è piaciuto per niente l'arbitro. Nel senso, non solo dalla parte nostra, perché comunque l'arbitro veramente ha gestito male la gara. Al Cagliari, ora non è che lo dico, cioè, io anche quando vinco comunque devo analizzare la gara. La gara è che la Roma ha dominato, ma l'arbitro, per esempio, ha gestito male la gara. Perché al Cagliari, a mani basse, meritava due o tre cartellini gialli in più. E perché Ragneri, il primo tempo, ha fatto un cambio? Ha cambiato, mi pare, il centrocampista con la pelle scura. Ora non mi ricordo bene il nome, mi ha sfuggito. Non è Makumbu, non è... No, mi sfuggito il nome, però l'ha cambiato un centrocampista perché appunto ha fatto tre o quattro falli da Giallo. Ma Giallo, nel senso, ha fatto falli tattici. E l'arbitro l'ha graziato, praticamente. Anche lo stesso Nathan Nandez. Alcune cose non le ha gestite bene. Al Cagliari, per esempio, neanche gli aveva dato un rigore, per esempio, sulla mano di Cristante. Ha annullato un gol per fuori gioco che non c'era. Alla fine poi gliel'hanno riconvalidata alla Roma. E quindi non ha fatto bene. Se non ci fosse stato il VAR sarebbe stata una partita disastrosa. A parte questo. La Roma, quindi, benissimo. Il quarto gol arriva con Lukaku che stoppa, finta, controlla e calcia. Ragazzi, vi prendete conto che Lukaku ha la media realizzativa di un gol a partite. È qualcosa di strabiliante. Cinque partite in Serie A, ovviamente, cinque gol. Perché anche in Europa League ha fatto due gol fino ad ora. È strabiliante. È qualcosa veramente di strabiliante. Se continua così può fare anche 25 reti, barra 30 gol. Tornare veramente Lukaku Prime perché l'ho visto veramente bene. Io credo che sta verso il 70-80% di forma fisica l'ha raggiunta. Credo che ora raggiungerà il massimo tra poco. E non vedo l'ora di vedere il suo massimo. Andiamo a dare due opinioni però sul Cagliari. La prima è che Ranieri non me lo toccate. Ranieri non lo toccate al Cagliari. Non lo toccate al Cagliari perché se il Cagliari sta in Serie A è solo grazie a una persona. Ranieri. Claudio Ranieri che il Palmanes parla per lui. Sta allenando il Cagliari. Non mi toccate Ranieri perché senza Ranieri il Cagliari non lotterebbe neanche per... Non farebbe un punto da qui all'ultima di campionato. Perché Ranieri è la vera forza del Cagliari. Primo. Secondo il Cagliari i giocatori ce l'ha. Sto aggiusto puntualizzando poi torno sulla Roma. Era una parentesi. Il Cagliari i giocatori ce l'ha. Ce l'ha. Perché vi faccio vedere un esempio. Degli esempi. Il Cagliari ha dei giocatori di assoluta categoria. Che giocherebbero titolari in altre 5-6 squadre di Serie A. Di media classifica. Vi faccio alcuni esempi. Nathan Handels. Giocherebbe a mani basse titolare in 10 squadre di Serie A. Zappa. Item. Pavoletti ha esperienza. È un giocatore di categoria. Petagna. Giocava al Monza. È di categoria. Chi abbiamo? Lo stesso Azi. Azi è buono. Il Cagliari comunque ha anche Augello. Che faceva titolare a una Sampdoria. Che potrebbe giocare tranquillamente in altre 4-5 squadre. Ha Lovumbo. Che è il migliore in questo momento. Ha segnato due gol. In questa forma fisica. Farebbe il titolare in 7-8 squadre. Ad Ossena. Che farebbe il titolare in 4-5 squadre di Serie A. Insomma. L'organico ce l'ha. Deve solo abituarsi alla categoria. Secondo me. Il Cagliari si potrà salvare a tutte le carte di regola per farlo. Certo. Se la dovrà studiare fino all'ultimo. Io ve lo dico. Però. Secondo me. Io. Un Cagliari salvo. Me lo giocherei. Ecco. Secondo me. Si può salvare. Amici del Cagliari. Ancora c'è tempo. Tifo per voi. Dovete incominciare a fare punti. Perché. Comunque. Stiamo entrando in una fase avanzata del campionato. Però. Non è ancora una situazione disperata. E sono errori di Ranieri? No. No. La stessa cosa di Mourinho. No. No. E no. No. Non commettete questo errore. Raniere. È uno degli allenatori più vincenti. Che è stato sulla panchina del Cagliari. Mourinho è l'allenatore più vincente che è stato sulla panchina della Roma. La Roma. Questa partita. È venuta forte. Forte a Cagliari. Doveva fare i punti. 4. 3. 4. 5 a 0. 6 a 0. Doveva fare i punti. Gol. Punti. Perché la squadra ha dimostrato di stare con Giuseppe Mourinho. E davanti. Si è trovata in malcapitato Cagliari. Poteva essere il Cagliari. E altre squadre di Serie A. Altre 16 squadre di Serie A. La Roma. Questa partita. Per necessità. Per necessità. La doveva. E l'avrebbe vinta. La doveva vincere. E l'avrebbe vinta. Perché la ho visto. Una Roma affamata. Andiamo nell'individualità. Perché? Perché. Per esempio. Vorrei poter dire se ho voto 6. Possiamo anche dire che la dipresa ha fatto un buon lavoro. Un dica mi è piaciuto. Buoni segnali. Mancini mi è piaciuto. Cristante adattato. Mi è piaciuto. Spinazzola. Ha coperto bene. Castrop ha fatto il suo primo assist. Mamma mia. Apriti cielo. Castrop ha fatto assist. Gli altri si sono allineati. La terra ha cambiato rotazione. È in modo di rivoluzione. È in modo di rivoluzione. E Castrop ha fatto assist. Avvenimento del secolo. Va bene. Quindi gli do un 6 e mezzo come voto. Paredes un cane. Un mastino. Fa un gol. Senza. Senza che stiamo giocando. Gli entra a forbice su un hand. Paredes ha una fame. Paredes di metterci in mostra. Giovedere strabiliante. Un po' macchinoso. Magari a volte. Ma è forte. È un mastino. Bene. Aguar. Benissimo. Fa la differenza. Bove. Anche lui un pitbull. Un pitbull. Ha rosicchiato tutti i palloni. Di bala 6. Nel senso. Da quel che ho visto. Ha fatto bene. Lui ha recuperato la palla del 2 a 0. Lukaku 7 e mezzo. Un mostro. Un mostro. Una. Una. Un mostro. Cioè. Non c'è niente da dire. È una cosa strabiliante. Strabiliante Lukaku. Incredibile. Ecco. La vera parola è. Incredibile. Lukaku è semplicemente incredibile. E Belotti. Solo una parola può descrivere. Fame. Fame. Di rimettersi in gioco. Detto ciò. Ho analizzato tutta la partita. A me la Roma è piaciuta tantissimo. Alla Roma manca una cosa. Per competere con le grandi. La costanza. Io. Un paio di settimane fa. Dopo la sconfitta contro il Genoa. Quindi una decina di giorni fa. Sì. Più o meno sì. Sì. Una decina di giorni fa ho detto. Dobbiamo vincere con Frosinone e Cagliari. Non dobbiamo fare i calcoli. Li faremo i piccoli calcoli. Durante la sosta. Ecco. La Roma Europa può incominciare a fare i calcoli. Perché si trova solo a tre punti dal Napoli. Che è quarto. Insieme. Però la Fiorentina non la reputo una concorrente ancora. Ora la Roma può fare i calcoli perché si trova a tre punti dal quarto posto. E sono pochi. La Roma ha fatto il suo battuto a Frosinone. Servette nel mezzo. E Cagliari. Ora col Monza. Tre punti. Con l'Inter. Con l'Inter. Dobbiamo provare a fare tre punti. Se Lukaku segna con l'Inter. Io faccio un po' spartita. Vi giuro. Un casino faccio. Ma ve lo giuro. Faccio un casino. Se Lukaku segna con l'Inter. Non mi avete mai visto. Esultare così se Lukaku segna con l'Inter. Perché sarebbe pura Goduria. Poi c'è il Lecce e il Derby. In quattro partite. Il minimo di punti. Considerando che facciamo due big match. Tentiamo di farli nove almeno. Nove barra dieci. Nove è il minimo. Dieci va bene. Se li facciamo tutti. Siamo di got. Mi pongo degli obiettivi. Ora però testa al Monza. Ci sono le nazionali. Alcuni giocatori si ripoteranno. Altri no. Ma va bene così. La pausa serviva. Per i giocatori. E anche per me. No scherzo. Ovviamente mi piace fare. Mi piace tifare. Anche se a volte mi snervo con la Roma. Detto questo. Ragazzi. Io vi saluto. Vi lascio con un dibattito. La Roma. Dove arriverà? Secondo me. Per il quarto posto. È fattibile. Lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale. E noi. Come sempre. Ci vediamo. A un prossimo video.